ecco qua l'unica mia fan su youtube l'unica che mi mette i like grazie lucia paolo non ti agitare troppo che sei già grosso così ciao capilla oe ciao il signor ligoni il signor ottaler carlo ecco i due che quando gli dici di andare piano vanno 30 all'ora in salita grazie grazie diego simone non serve un cazzo